Buonasera, sono Paolo Margutti, ho 55 anni, abito a San Gervasio in via Sant'Ambrogio. Lavoro in un'azienda di Scanzorosciate nella Bergamasca e sono un quadro. Sposato da più di 30 anni, mia moglie è Gabriella, ho due figlie. Da tanti anni sono nel direttivo di Forza Italia del nostro comune. Nelle ultime elezioni ero stato il primo degli esclusi e questa sera sono stato nominato consigliere al posto del povero Angelo che è venuto a mancare. Grazie.